Musica Tg Valate su Teleturio, una nuova edizione, ben trovato a tutto il pubblico. In primo piano subito la sanità perché prosegue il percorso attivato dal Calcet della Valdichiana con la donazione di una nuova poltrona per prelievi ematici alla Casa della Salute di Lucignano. La cerimonia di consegne è venuta alla presenza delle autorità. Un gesto di grande solidarietà e attenzione per il benessere della comunità locale. Cerimonia di donazione di una nuova poltrona per il punto prelievi donata dal Calcet Valdichiana. La nuova poltrona contribuirà a rendere più agevoli e confortevoli le operazioni per tutti i pazienti che usufruiscono di questo servizio fondamentale al punto prelievi di Lucignano. Alla cerimonia di donazione hanno presenziato la sindaca di Lucignano Roberta Casini, il direttore del distretto Valdichiana a Retina Alfredo Notargiacomo e il presidente del Calcet Valdichiana Massimiliano Cancellieri. Sarà molto utile perché sicuramente è fatto tutto più in sicurezza ed in modo più confortevole per gli utenti. Questo è lo scopo e ringrazio davvero il Calcet per la straordinaria opera che fanno sui territori per le donazioni ma proprio per tutto il loro operato. Insieme a tutta la rete del volontariato io credo che sono un elemento fondamentale per la nostra sanità nel territorio. Noi vediamo che dove c'è veramente volontariato c'è integrazione perché l'obiettivo è quello di aiutare il cittadino per agevolare anche i stessi servizi. Questo ci permette di lavorare veramente in rete. Quando si riesce a fare questo e ci sono associazioni di volontariato, ce ne sono tantissime che collaborano seriamente, riusciamo veramente a mettere insieme tutte quante le risorse e a rendere i servizi migliori, a fare un servizio migliore proprio per garantire una migliore accessibilità cittadino agli stessi servizi. Sì, è stato un bellissimo progetto richiesto direttamente dai punti prelievo di tutta la Valdichiana. Andavano rinnovate tutte le poltrone, è stato per noi un grosso impegno perché capite ogni donazione significa prima trovare le risorse economiche e quindi organizzare tante manifestazioni, però ce l'abbiamo fatta anche perché la Valdichiana quando si tratta di volontariato e donazioni è sempre splendida. Cambiamo argomento, tovaglia quadri, cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate tra i premiati 2024 dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro presieduta da Giulio Baffi. I premi della critica sono stati assegnati dai soci dell'Associazione presenti nelle testate giornalistiche web in tutta Italia ad attori, registi, spettacoli, pubblicazioni e iniziative che hanno caratterizzato l'attività teatrale della passata stagione. La cerimonia di consegna dei premi della critica 2024 assegnati appunto dall'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro è prevista lunedì 11 novembre alle 17 nel Teatro Verdi di Padova, ospiti del Teatro Stabile del Veneto. Un evento dedicato ai primi piatti a Sansepolcro si intitola Primi dei primi e vuole essere un riconoscimento alla vocazione di Sansepolcro nella produzione della pasta, lo promuove la Confcommercio. La presentazione è avvenuta nella sala del Consiglio Comunale. Presentato ufficialmente a Palazzo delle Laudi, il nuovo format dedicato ai primi piatti. Un grande evento che mira a valorizzare la storia di Sansepolcro e richiamare turisti da tutta Italia. Appuntamento il prossimo maggio 2025 nel borgo della Valtiberina. Su iniziativa del Comune con la collaborazione di Confcommercio, Terre Etrusche, il contributo di Camera di Commercio di Arezzo e Siena, l'iniziativa Primi dei primi sarà un appuntamento molto atteso. È un evento dei primi che proporremmo nel maggio del 2025, abbiamo già le idee abbastanza chiare, quindi ci saranno sicuramente, la pasta sarà la padrona, sarà la regina di questa festa, ma non solo, quindi ci saranno anche altri momenti di degustazione, ci saranno momenti di approfondimento, ci sarà la pasta, voglio dire, vista anche da altri punti di vista, ci saranno comunque momenti anche di attrazione. Ovviamente queste cose servono soprattutto per lanciare una località come Sansepolcro, lo dico sempre, io lo dico spesso, che è una bellissima cittadina che non ha nulla da invidiare ad altre e quindi cercare anche di promuoverla da un punto di vista turistico per farla riscoprire o scoprire. E quindi ecco, diciamo, lanciamo questo nuovo evento che speriamo che incontri, ma soprattutto che si possa ripetere negli anni, visto che comunque la pasta è la storia anche di questo paese, di questa città. Il tutto è comunque coordinato da Vittorio Camorri, che è una grande esperienza da questo punto di vista, proprio nell'alta qualità per queste tipologie di eventi, e quindi la pasta interpretata dagli chef stellati, ma non solo ovviamente. L'Ampi provinciale con l'amministrazione comunale di Subbiano per l'ottantesimo anniversario della liberazione ha posto una targa a casa Taverni, a ricordo del comando della brigata partigiana Pio Borri, che coordinò tutte le operazioni del Casentino. Per l'ottantesimo anniversario della liberazione, l'Ampi provinciale torna a casa Taverni, sull'Alpe di Catenaia, sede del comando della brigata partigiana Pio Borri, e pone una nuova targa perché rimanga viva la memoria di questo luogo e dei valori come la libertà e la democrazia che animarono i giovani di allora. Qui si erano insediati i partigiani e qui sono rimasti, nessuno li ha mandati via, i tedeschi stessi, nonostante i tentativi, non sono riusciti in qualche modo a spostarli e comunque a farli migrare in altri posti. Quindi anche simbolicamente è un punto dove la resistenza ha fatto veramente la resistenza ed è rimasta sul territorio presidiandolo e coordinando poi da qui, in quei due mesi, tutte le attività partigiane, perché qui hanno dormito fianco a fianco i comandanti partigiani e la compagnia comando, quindi tutti erano qui dentro, c'erano i cavalli, e di questo c'è tante situazioni di storia, di vissuto, di stare insieme che veramente ci riempiono sempre il cuore quando ne parliamo. Casa Taverni è a 1100 metri nell'Alpe di Catenaia ed è nel territorio di Subbiano, ma è una proprietà della regione toscana gestita dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Oggi anche un rifugio con attività ricettiva. È un segno, è una testimonianza che vogliamo lasciare per i giovani che magari vengono qui per godersi i panorami che abbiamo nella nostra montagna, perché magari vedendo una lapide anche più recente, insomma, possano continuare a riflettere. Il passato di questa gente che ha fatto e ha combattuto proprio per la nostra nazione, credo che vada riconosciuto e in un momento come questo vediamo tutti i giorni cosa sta succedendo nel mondo. Un nuovo sportello per la misericordia di Bibiena in pieno centro storico. La confraternita casentinese ha inaugurato una sede secondaria in Piazza Tarlati che rappresenterà un punto di primo ascolto per i cittadini cui rivolgersi per ottenere informazioni sulle attività, per richiedere l'attivazione di nuovi servizi o per fornire le indicazioni per diventare volontario. L'ufficio restere attivo ogni giovedì mattina tra le 9 e le 12 con la prospettiva futura di ampliare l'orario di apertura. E a Terra Nuova Bracciolini è partito il nuovo anno della Scuola di Musica. Ci racconta tutto Andrea Gragnoli. La musica come strumento di conoscenza, socializzazione e tradizione. Sono questi gli ingredienti che alimentano ogni anno i corsi che si svolgono presso la Scuola di Musica Comunale di Terra Nuova Bracciolini. Nella nuova sede di Viale Europa sono infatti ripartite le lezioni che riguardano ogni tipo di strumento. Insegniamo ai ragazzi la musica, ma non solo ai ragazzi. Possono venire anche persone che hanno da affinare qualche strumento per degli esami, eccetera, eccetera, anche adulti. Oppure qualsiasi persona che si vuole avvicinare a uno strumento. Gli strumenti, abbiamo tutta la copertura degli strumenti, affiato, percussioni, pianoforte e chitarra. Con insegnanti e professionisti i corsi, aperti a tutti, sono sostenuti dal Comune, dall'Istituto Scolastico Giovanni XXIII e dalla Filarmonica del Paese. Informazioni e iscrizioni aperte dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30, presso la sede di Viale Europa. Credo che dia la possibilità ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze di poter vivere e far maturare quell'esperienza musicale che è sostenuta anche dalla nostra scuola, dal nostro istituto comprensivo che ha un indirizzo musicale. Quindi si coltiva la musica a 360 gradi a Terra Nuova. E adesso invece andiamo a San Giovanni Valdarno per l'esattezza alla Primaria Rodari, dove è stato inaugurato un bosco didattico a disposizione dei piccoli studenti. 30 piante messe a dimora presso la Scuola Primaria Rodari del quartiere Ponte alle Forche di San Giovanni Valdarno. È il bosco didattico realizzato da Unicop Firenze nell'ambito del progetto che ogni anno crea in vari istituti comprensivi un fazzoletto verde a disposizione dei bambini. Un progetto bello perché insegna ai bambini l'amore per la natura, l'amore per l'ambiente e l'importanza soprattutto in questa fase storica così delicata proprio dei temi ambientali, l'importanza della cura delle piante che sono un bene comune anche loro e soprattutto dell'utilità e dell'importanza fondamentale della natura per la nostra vita quotidiana. Un laboratorio di biodiversità che sarà curato nel tempo dagli studenti e che ha come obiettivo quello di far conoscere e sensibilizzare. L'obiettivo è quello di rendere i bambini sempre più consapevoli della cura e del rispetto del proprio ambiente e quindi anche di fargli sperimentare in prima persona un laboratorio all'aria aperta di biodiversità. E con il servizio sul bosco didattico si chiude questa edizione del Tg Vallate. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione Grazie per la vostra attenzione